Ciao a tutti, io come sempre sono Vlad Sparo e so parecchie cose sullo sparare. Capire le varie tipologie dei collarini, dei bossoli, è da parte molto importante per comprendere appieno la storia e le tecnologie delle armi da fuoco portatili. Capire infatti come è fatto il collarino di un bossolo rivela esattamente una serie di problemi che riguardano l'armi da fuoco e la produzione delle armi da fuoco. Andiamo quindi a esaminare il collarino dei bossoli, le sue caratteristiche, a che cosa serve, in quali tipologie si presenta. Il collarino è semplicemente quella parte che viene agganciata dall'estrattore dell'arma. Per infatti controllare l'alimentazione, ovvero l'inserimento della munizione nella camera di scoppio e la sua estrazione, è necessaria l'azione di un elemento chiamato estrattore, che come il nome suggerisce deve agganciare in qualche modo la munizione per controllarne il movimento. L'estrazione ovviamente è l'ovvia funzione dell'estrattore, ma non è solo quella. Nonostante il suo nome estrattore, che fa pensare solo a un'azione, l'estrattore più in generale potremmo dire che controlla e aiuta con l'alimentazione con il ciclo di sparo dell'arma. Inoltre svolge un'altra funzione fondamentale, siccome tiene la munizione, ne controlla il cosiddetto headspace, ovvero spazio di testa. Abbiamo già in passato approfondito che cosa sia l'headspace, potete recuperare quel video se volete approfondire cliccando il link nella descrizione. Ma in breve, lo spazio di testa o headspace è la distanza misurata dalla faccia di un otturatore chiuso alla parte della camera che limita la profondità di inserimento della munizione. Il corretto headspace è una cosa molto importante, perché un headspace troppo corto nella camera vuol dire che la munizione non verrà inserita del tutto. Un headspace eccessivo, invece, ovviamente provoca che c'è troppo spazio all'interno della camera, per cui si possono verificare problemi come rotture dai bossoli, o addirittura, nei casi più catastrofici, le esplosioni dell'arma. È bene tenere a mente il headspace quando parliamo dei collarini, perché tantissima della tecnologia dello sviluppo o della scelta su quale collarino utilizzare è molto legata al headspace piuttosto che alla questione dell'estrazione della munizione. Ovviamente, andando avanti ed esaminando i vari tipi di collarini, vedremo un pochino meglio come e perché servono al headspace o meno. Diversi tipi di collarini, infatti, presentano vari svantaggi e ovviamente vantaggi per varie caratteristiche dell'arma, dal suo funzionamento corretto alla sicurezza meccanica, appunto, ma anche alla facilità e al costo di produzione. In queste immagini possiamo in particolare osservare i cinque tipi più diffusi dei collarini. Il rimmed, il semi-rimmed, il rimless, il rebated, chiamato anche rebated rim, e il belted. Il primo storicamente ad apparire è il bossolo rimmed. Un bossolo rimmed può essere definito come un bossolo che ha un collarino di un diametro notevolmente maggiore del bossolo stesso e non presenta una scalanatura di estrazione. Se non sapete che cos'è una scalanatura di estrazione, sarà abbastanza evidente appena vedremo i successivi tipi di collarino. I suoi grandi vantaggi è che è semplicissimo da produrre, forse il più semplice di quelli che abbiamo visto, ed inoltre l'headspace è facilissimo da controllare. Inoltre, gli estrattori per queste armi sono molto semplici. Si adatta molto universalmente a vari sistemi. L'headspace è facile da controllare, poiché la profondità alla quale viene inserita questa munizione è controllata, in realtà, dallo spessore del collarino stesso. Infatti, quando l'ottoratore va a chiudersi, l'unica cosa che determina quanto in profondità viene inserita la munizione e lo spessore del collarino, perché la munizione continua a essere inserita finché non incontra il collarino. È chiaro che a se a livello, per esempio, di produzione della munizione stiamo molto attenti allo spessore del collarino, allora avremo la certezza che la munizione verrà sempre inserita alla stessa profondità, poiché sempre, quando si arriva al collarino, si fermerà. Ciò permette, per esempio, una certa intercambiabilità di calibri in alcune armi. Un esempio tipico sono, per esempio, le armi in 357 Magnum, che possono camerare anche il 38 Special. Il 38 Special che ha un bossolo più corto, ma che comunque viene inserito alla profondità corretta, poiché entrambe le munizioni sono rimmed, con caratteristiche appunto del collarino identiche, e quindi vengono entrambe inserite alla profondità corretta, ovvero la stessa identica. Un altro tipico esempio di questa intercambiabilità è quella presente, per esempio, tra il 22 Long Rifle e l'ora quasi defunto 22 Short. Un altro vantaggio della munizione rimmed è che gli estrattori sono particolarmente semplici, in particolare in quelle armi che sono non autocaricanti, come per esempio le rivoltelle, perché quando si inserisce la munizione basta che la munizione si appoggi all'estrattore, che poi andando indietro la tirerà fuori, o in armi per esempio come quella da caccia, le classiche doppiette. La munizione rimmed però ha un grosso svantaggio che ha fatto sì, tranne che per una evidente eccezione che, soprattutto in ambito pratico e militare, è sempre di più caduta in disuso. Ovvero che a causa del collarino spurgente, l'alimentazione in sistemi a ripetizione, ma in particolare quelli autocaricanti, parlo delle armi semi-automatiche o delle mitragliatrici, è particolarmente difficoltoso. Infatti, per esempio in un caricatore, i collarini e le munizioni tendono ad agganciarsi l'un l'altro, nel cosiddetto rimlock, e le armi a ripetizione autocaricanti devono essere pensate in maniera tale da prevenire questo problema, andando a trovare soluzioni tecniche che spesso vanno a complicare l'arma, sia a livello di parti, ma anche a volte di produzione. Insomma, è un problema in più da dover risolvere. Tre munizioni molto famose che sono RIMED sono innanzitutto la 22 Long Rifle, la più famosa e più utilizzata forse munizione sportiva. Chiunque sia mai passato da un poligono ha avuto a che fare con questa munizione, o se banalmente guardate le Olimpiadi, gli sport olimpici di tiro, tendenzialmente si va a usare questa munizione. L'esempio militare ancora in uso accennato prima è la 7,62x54R sovietica, oggi russa. Tendenzialmente ed esclusivamente per motivi logistici a causa delle gigantesche quantità di questa munizione presente e delle armi che ha merata in questa munizione, la Russia e una serie di paesi ex-sovietici e ex-Patto di Varsavia ancora la mantengono. Però tendenzialmente è l'unica munizione militare ancora che presenta un collarino sporgente, proprio a causa delle complicazioni che avvengono con l'alimentazione in sistemi autocaricanti ampiamente utilizzati dagli eserciti. Un'altra munizione col collarino sporgente RIMMED popolarissima è la calibro 12. In realtà, praticamente tutte le munizioni per armi a canna liscia per i fucili sono col collarino sporgente. Questo proprio perché gli estrattori in tal maniera sono molto più semplici. Soprattutto in quelle armi che per esempio non sono autocaricanti, come le classiche doppiette da caccia. Dal lato opposto della munizione RIMMED abbiamo la RIMMLESS, ora in inglese questo significherebbe senza collarino, cioè là il collarino solo che non è sporgente. Infatti una munizione RIMMLESS è una munizione che ha il collarino dello stesso diametro del boss lo stesso e presenta appena sopra il bordo del collarino una scalanatura di estrazione. Affinché ovviamente l'estrattore dell'arma, che possiamo immaginarcelo come una grossa unghia, abbia cosa agganciare, si possa inserire in quella scalanatura e agganciare il collarino. Il grande vantaggio delle munizioni RIMMLESS è l'alimentazione estremamente semplificata nelle armi a ripetizione e autocaricanti. Possiamo completamente dimenticarci del problema del RIMLOK. E se non conoscete così bene il mondo dell'armi vi assicuro che ho un problema gigantesco. La munizione RIMMLESS taglia completamente la testa al toro. Non dobbiamo più pensare a come aggirare il problema dei collarini che si agganciano l'un l'altro poiché, essendo lo stesso diametro dei bossoli, una munizione può tranquillamente scorrere sopra l'altra. Gli svantaggi di questo sistema sono tendenzialmente due. Il primo è che l'headspace è più difficile da controllare. Infatti, quando andiamo a inserire la munizione nella camera, non essendoci un collarino che ne blocca con certezza l'inserimento in profondità, potrebbe esserci una situazione dove, a causa per esempio di tolleranze eccessive, la munizione venga inserita troppo in profondità o troppo poco. Le armi che fanno uso di munizioni RIMMLESS necessitano quindi di maggiore controllo di qualità e maggiore controllo sulle tolleranze dell'arma. Non che con le RIMMED non ne hanno bisogno, ma tecnicamente parlando con le RIMMED è molto più semplice. Le RIMMLESS inoltre non presentano queste caratteristiche di intercambiabilità che abbiamo visto, a meno che il bossolo non sia dimensionalmente identico. Ma in quel caso si tratta praticamente della stessa munizione. Gli estrattori anche per questo sono più complicati. Infatti l'estrattore dovrà andare a agganciare, a inserirsi in questa scala natura, andare oltre il collarino. Gli estrattori di questa tipologia, per esempio, spesso e volentieri, nella stragrande maggioranza dei casi, presentano una qualche molla, appunto, per fare questo movimento di andare dentro la scala natura ed agganciare il bossolo stesso. Non è un grosso problema per le armi autocaricanti, ma in armi molto semplici, come per esempio il fucile e la doppietta del nonno, non vogliamo avere questa complicazione. Gli esempi della munizione RIMMLESS sono davvero tanti. Oserei dire che la stragrande maggioranza delle munizioni sono RIMMLESS. Ora, non ho visto statistiche precise, non penso che nessuno le abbia fatte, ma tirando a indovinare, dovendo attirare a indovinare, direi che il 60-65% delle munizioni moderne per volume d'uso sono munizioni RIMMLESS. Munizioni come il 9x19, ma anche il 9x21 o il 9 corto, calibri molto popolari per la difesa in Italia, sono munizioni RIMMLESS. La 223 Remington, o 556 NATO, è un'altra munizione RIMMLESS. La 7,62x39 Sovietica è una munizione RIMMLESS. La 7,62 NATO, che non abbiamo messo qui come immagine, è un'altra munizione RIMMLESS. La stragrande maggioranza delle moderne armi autocaricanti usa munizioni RIMMLESS, con l'eccezione già detta la 7,62x54R Sovietica e di altre più rare tipologie di collarino che andremo in questo momento a vedere. Un imbrido un po' imbastardito tra le due tipologie che abbiamo visto è il semi-RIMMED. Il semi-RIMMED ha un bossolo con un collarino leggermente più largo del bossolo stesso, ma che presenta la scalanatura di estrazione, e quindi una via di mezzo tra le RIMMED e le RIMMLESS. E presenta un particolare mix di vantaggi e svantaggi di entrambi i mondi. Per esempio, l'Headspace, essendo il collarino sporgente, viene misurato e viene compiuto sul collarino stesso, e quindi, come abbiamo visto in precedenza, è più semplice. Siccome il collarino è poco sporgente, in teoria è una munizione più versatile. Nonostante la leggera sporgenza, tendenzialmente si adatta anche ai sistemi autocaricanti, e i sistemi autocaricanti non presentano tutte quelle cose strane che hanno i sistemi autocaricanti con le munizioni RIMMED per, appunto, evitare il RIMMLOK, il blocco delle munizioni, a causa del collarino. Ma dall'altro lato è comunque meno affidabile di una vera munizione RIMMLESS. Questa soluzione tecnica era molto popolare agli albori delle armi autocaricanti, ma si andava con il tempo a dimenticare. Per ovviare ai problemi alla quale cercava di rimediare la munizione semi-RIMMED, infatti verranno inventati altri sistemi. O si andrà direttamente sullo RIMMLESS e basta. I calibri più popolari con questa caratteristica, infatti, sono tutti calibri che hanno 100 anni o più. Due calibri piccoli da difesa, ovvero il 7,35 Browning e il 7,65 Browning, quest'ultimo ancora molto popolare in Italia, o munizioni ancora relativamente diffuse nel mondo dello sport, come il 38 Superauto. Notate come da lontano, guardando il collarino, è quasi facile confonderlo con la RIMMLESS. Dovremmo infatti andare da vicino o anche misurare per accorgerci a occhio nudo che in realtà è una semi-RIMMED. Andiamo man mano, sempre nel più raro, una quarta tipologia, è il rebated o rebated rim, che è un bossolo con il collarino dal diametro inferiore del bossolo stesso, con, ovviamente, come anche vediamo, una scalanatura di estrazione tra il collarino e il bossolo stesso. Perché vorremmo avere una munizione con il collarino di diametro inferiore al bossolo stesso? Tendenzialmente i motivi sono due, e si applicano in situazioni molto di nicchia, ma ci sono munizioni, alle quali non avete pensato, che sono in realtà rebated. Il primo motivo è la compatibilità fra otturatori. Avendo un atturatore di un certo diametro adattato per il collarino di una certa munizione, se voglio avere un bossolo più grande, ma mantenere lo stesso atturatore, che quindi dovrà presentare delle caratteristiche di una certa larghezza, un certo estrattore, un metodo per fare questa cosa è mantenere questo collarino della stessa dimensione, che sarà quindi necessariamente più piccolo del bossolo stesso. Il secondo motivo è che questo sistema è particolarmente adattabile ad alcuni molto rari e particolari sistemi di funzionamento. Mi riferisco in particolare al cosiddetto Advanced Primer Ignition, un sistema molto di nicchia, in realtà sfruttato solo su mitragliatrici pesanti, mitragliere di grosso calibro, dove tendenzialmente si ha una camera molto lunga, più lunga del bossolo stesso, e una parte dell'otturatore deve entrare dentro la camera. Per cui non può essere più grande del collarino, ma non può essere neanche rimmed, perché ci deve essere spazio per l'estrattore, quindi estrattore e faccia dell'otturatore devono essere più piccoli del diametro esterno del bossolo, per appunto entrare. Capite come questo sia molto più complicato produttivamente e anche per l'headspace. Insomma, all'infuori di questi due specifici casi, non ha senso fare un bossolo che sia rebated, ma vale fare un semplice rimless. Tre munizioni molto famose? La prima è la 50 Action Express, della famosissima Desert Eagle. Il bossolo qui è rebated perché la 50 Action Express utilizza lo stesso otturatore del 44 Magnum. Infatti gli otturatori 44 Magnum e 50 Action Express nelle Desert Eagle, che come forse sapete vengono prodotte in vari calibri, sono gli stessi. Siccome il 44 Magnum è di diametro più piccolo del 50, ma mantiene lo stesso collarino, la stessa larghezza del collarino, esso nella 50 Action Express sarà più piccolo del diametro del bossolo stesso, e quindi sarà un bossolo rebated. Un calibro che è un po' del mistico, ma in realtà è rebated, anche se molto leggermente, è il 5,7x28, Una munizione molto particolare sviluppata dall'AFN. Ora, non ho trovato un motivo convincente del perché l'hanno fatto rebated. Davvero, ho cercato fonti, libri e web per tantissimo tempo e non ho trovato una risposta soddisfacente, quindi se la sapete scrivetelo meglio nei commenti. E per portare un esempio appunto di un'arma o di una munizione per il cosiddetto Advanced Primary Ignition, citiamo questa grossa munizione che è il 20x110, una munizione molto popolare nella Seconda Guerra Mondiale per i cannoncini antiaerei, in particolare i cosiddetti Orlikon, montati abbondantemente in particolare sulle navi alleate, che facevano uso di questo particolare sistema dell'Advanced Primary Ignition, che necessitava quindi dell'otturatore del quale abbiamo discusso prima. Come vedete, abbastanza evidentemente qui, il collarino è più piccolo del diametro esterno del bossolo. Last but not least abbiamo la belted. La belted è un tipo di bossolo e di collarino estremamente di nicchia, anche se regolarmente appare, anche a me capita ogni tanto di sparare con un'arma che utilizza una munizione belted. Questi bossoli presentano una cintura, belt in inglese, più spessa del bossolo, a una piccola distanza dalla scalanatura dell'estrattore. E si usa questo sistema praticamente esclusivamente per calibri di grossa potenza, dei calibri Magnum da caccia in particolare. I bossoli in generale subiscono un grosso stress meccanico proprio in quel punto dove ci sta questa cintura. Alle gigantesche energie e pressioni alle quali operano questi calibri, un rinforzo non fa male. L'headspace, l'inserimento della munizione, la sua profondità, è controllato da questa cintura, che si comporta in un certo senso come un collarino spurgente, essendo però, meccanicamente parlando, molto più solido e resistente al collarino spurgente. Questo tipo di bossolo viene appunto specificamente sviluppato proprio per questi calibri potenti. Magari potreste chiedere, tanto vale usare il RIMMED? E questo è più resistente. E siccome questa cintura è un po' più snussata per quanto riguarda le forme, rispetto a un collarino che deve essere agganciato da un estrattore molto solidamente, è più affidabile nell'alimentazione. Siccome le forme sono più smussate, anche se si dovessero agganciare, tendono a smuoversi. È abbastanza ovvia questa cosa essendo la forma più smussata. Quindi va a mitigare il problema delle RIMMED. L'evidente svantaggio è che costoso è complicato da produrre. A meno che non abbiamo esigenza appunto di fare un calibro magnum, non c'è alcuna ragione per andare per il Belted. Se proprio vogliamo un'estrazione semplice, tanto vale usare un RIMMED. E ribadisco, trovare queste munizioni Belted è molto raro. In particolare, forse, se qualcuno di voi è un cacciatore o conosce un cacciatore, è probabile appunto che venga usato in queste frangenti. Vi faccio in questo momento vedere tre calibri, evidentemente, Belted. Il 338 Winchester Magnum, il 300 Winchester Magnum, il 375 Holland e Holland Magnum. Tutte munizioni molto potenti per la caccia grossa. E' importante che vi ricordate questa cosa. Si tende a pensare al collarino e agli estrattori per la funzione dell'estrazione della munizione. Ma la cosa più importante e il vero motivo per cui si è sperimentato con queste diverse tipologie e si usa queste diverse tipologie è proprio il controllo dell'headspace. La presenza di un collarino sporgente o meno, o di una cintura appunto nel Belted, va a controllare la profondità di inserimento della munizione. Con tutte le conseguenze meccaniche di produzione che abbiamo visto. Ovviamente a questa regola ci sono le eccezioni. Qui vediamo delle vecchie, bizzarre munizioni francesi. Da un lato per esempio abbiamo il Pinfire, che come vedete non ha un collarino, anche perché tutta quanta l'estrazione della munizione avviene con questo spillo. Un sistema estremamente particolare e completamente obsoleto da 150 anni. Ma altre munizioni come questa per il Revolver Galant, che presenta un collarino assai atipico. Sembra quasi una Belt di quella che abbiamo appena visto. È in realtà una semplice munizione RIMMED, ma con questo collarino particolarmente grosso e ingombrante. Spero che questa presentazione sia stata di vostro gradimento e abbia fatto un po' luce sul collarino delle munizioni. Come vedete è un piccolo dettaglio tecnico, ma che ha implicazioni profondissime. Magari voi che state guardando siete andati a sparare tantissime volte, avete caricato varie tipologie di munizioni, ma non vi siete mai chiesti perché il collarino è in una maniera o nell'altra. Le implicazioni, come vedete, sono molto profonde. Fatemi sapere nei commenti di che cosa pensate di questo format. Ai più vecchi fan del canale chiedo anche di ricordarvi com'era GANS 101, la mia serie sul funzionamento di base delle armi da fuoco. Voglio infatti provare a replicarla, a ributtarla, a rifarla, più in questo stile usando appunto delle slide per fare una presentazione. Ditemi cosa pensate di questa idea. Noi, come al solito, ci vediamo alla prossima.